Ciao ragazzi, sono Luz19 e siamo ritornati su Xeroverse 2 Hero Colosseo e adesso accederemo a Colosseo degli eroi. Innanzitutto vorrei creare un nuovo mazzo. Lo ordineremo per le rarità. Vediamo un po'. Aggiungeremo ovviamente Cell, poi aggiungeremo ovviamente Droid, poi aggiungeremo questo Vegeta, Freezer, questo Freezer no e al massimo aggiungeremo Junior. Stuttore Special è proprio la differenza dell'imperatore. Attacco 4300, un bell'attacco quasi più forte di Cell. In effetti, guardate la differenza tra questi altri. Sì, giocheremo con questo Geck. Andiamo in battaglia con la storia, ovviamente. La prossima storia sarà Mister Satali, il più potente guerriero. Io vorrei andare con il secondo mazzo. Sì, dai. Non vorrei andarci pesante con il nostro campione. Eccoci. Beh, dato che sei il nostro proprio motore dovresti terribili di ogni genere. Visto cominciare con il resto. Te lo sappiamo così che mi viene in mente. Oh, tu sei il tronc seduto da Contosidio, dico bene? In cosa posso aiutarti? Eh? Mister Satali, naturalmente. Eh? Oh, scusa, parlavo d'altro. Allora, Mister Satali. Il documento è stato tutto sulle miniature, non è vero? Miniature? Oh, buono mi è andata una. Difrescia questa, eh? Non si vede la ceppa. Sì, proprio a questa. Spero che accettassi di sfidarci usando le tue. Una sfida? Però a me teme. Usando le miniature? Mi sento una nota che tu le abbia chiesto. Ma vedi, sono dei campi ma del mondo. Non ho tempo da perdere quando giocattoli. Per favore? Ti dirò. Ma che rimanga tra noi due? Sto lavorando in pubblicità per promuovere questa miniature. Sono le ricerca di qualcuno che faccia da protagonista. Dai. Saresti perfetto. Sì, proprio così. Per quanto ci sarà messa il terrestre più popolare che ci sia. Oh. Oh. Sappiamo tutti che sei molto impegnato. Non proviamo da altri altri giocatore ma... È già tutto pronto. Quindi potresti partecipare a un combattimento solo. Se ti divertirai. Allora potresti prendere considerazione e idea di friggere anche della pubblicità. Quindi... Capisco. Se le cose stanno così potrei provarci. Ma sono davvero molto occupato. Tutti hanno bisogno dei poteri di misa satana per qualche motivo. Oh, misa satana. Dimmi. Che cosa sta facendo? Cosa hai in mano? Mammiatura? Sta più succedendo qualcosa? Ehi, andiamo a vedere. Mr. Satan. Mr. Satan. Vedo che si è già donata la bella folla. E non si può devutere la folla. Combatterò come il solo biso Satan so fare. Vedrai. Sarà uno spettacolo indimenticabile. Mi fa piacere? E questo è sistemato. Ora tocca a te. Cioè, tocca a me. Vediamo, Mr. Satan. Che miniatura ha. Lui è livello maestro 4 e noi soltanto al terzo. Ecco le nostre miniature. Vediamo le sue. Ma che... Cavolo. Che è la battaglia di cui tu abbia inizio. Un'ultima di cui mi sono stanca. Ricca la massima. Sì, devo dire l'attacco sopra. Dove... ...questo... 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 ...inveko... ...questo... ...ell'allà. Allora ce l'ho l'azzettino. Irionghii. E ne ho. Vedi... Io vorrei provare cosi... vedete l'orecchio qui magari da una bella patosta al suo maestro e vediamo metterò freezer qui dai proviamo così ok siamo più veloci credo vediamo cosa possiamo fare bonus ancora vivo purtroppo ci sono già un b stessa tanto bonus pure mi sono visto già sto 5 mila vediamo che ci combino questo solo 366 questo buggero invece ci combino pur ha fatto del male al nostro sal perfetto attacco supero pronto ha messo anche goku se cosa noi ci combino di pistola con c17 questo buggero lo vorrei freezer lo vorrei togliere non so se esistere non so se tocco 4 mila dobbiamo cercare di attaccare per primo si è bene così dai si è bene così dai che cosa ok siamo stati fortunatissimi ecco secondo che ci diciassette mi fa tappeto goku bonus vai grandissimo che diciassette se non vi si aspettavo l'ho che gioco non c'è un certo gioco luo non ti sa fare non ti sa fare ok ok chi ti cosa potrò mai fare 17 o la c'è qui attaccare di nuovo con questa formazione anche se 17 vuole piazzare qui non c'è dai ancora Un po' spiegato su Vegeta, questo G17, però... 5.000 DAI! Grandissimo! Un momento! Un ultimo dovesse! Siamo diventati maestri di livello 4! Nuova storia è giunta! Doi! Se cosa si aspetta la folla, giusto? Se perdo, tutto andrà in una cosa delusi. Vuoi proprio che finisca così? Ma vaffanculo vai! Sì! 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 Eh? È fantastico! Sì! È un gioco divertente! Per ripetarci anch'io! Gioco agli altri video di Sato! Faccio possano parte del suo fan club! Mister Sato! Mister Sato! Mi sembra che ci abbiano fatto! Ehi ragazzi, non ricordo quello che hai detto! Tranquere, ma te ne ero perso un'offerta ufficiale! Mi piacciono un po' di pazienza! Vabbè, non so se c'è da Roma... Ci penserò ok! T'ho tantato come ho previsto! T'ho proprio pubblicità eh! Andiamo avanti così! Per ragazzi questa storia, come se è stata, si conclude qui! Vediamo chi sarà il prossimo! Majin Buu! Oh my god! Torniamo a Canton Seed, vediamo se ci sono qualcuno da battere! Bene ragazzi! Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di iscrivervi al canale e di lasciare un bel pollicione! Ciao ragazzi!